Far crescere l'ecosistema della formazione e dell'innovazione della regione campagna nel campo delle tecnologie abilitanti della microelettronica, settore che svolge un ruolo cruciale in tutte le filiere industriali avanzate. Questo è l'obiettivo del Neapolis Innovation Summer Campus, evento formativo giunto all'undicesima edizione rivolto agli studenti dei corsi di laurea nelle discipline STEM, le materie scientifiche, triennali e magistrali, che permette ai partecipanti di avvicinarsi al mondo dei microcontrollori a 32 bit e dei sistemi operativi real-time, vivendo così un'esperienza unica di apprendimento pratico, cooperazione e networking. Oggi a Napoli, nella sede della ST Microelectronics, l'open day riservato alle piccole e medie imprese e alle start-up innovative, come spiega l'organizzatore del Summer Campus, Domenico Rega. Grazie all'aiuto di Tutor ST Microelectronics e Student Tutor, noi trasmettiamo agli studenti nozioni di base di elettronica e di informatica che gli permettono di realizzare alla fine del campus un progetto unico che gli studenti realizzano con le loro forze. 200 gli studenti che partecipano all'evento, che dal 2014 a oggi ha coinvolto 1.500 studenti, altri particolari li ha forniti la principal media tutor Maria Coscione. Lo student tutor ha il compito di condividere la sua conoscenza sui microcontrollori attraverso delle lezioni e successivamente, una volta formati i team, siamo di completo supporto ai ragazzi per il compimento appunto del progetto che poi presenteranno a fine campus. Agli studenti sarà data la possibilità di conoscere anche le aziende, i cui rappresentanti hanno dato consigli e idee per trovare opportunità di lavoro. Domenico Galdiero, CEO e fondatore di Dropper. Domenico Galdiero è nata proprio qui, prima in veste di studente e poi in veste di tutor, ho partecipato a dei corsi molto formativi sui microcontrollori della ST Macroelectronics che hanno aiutato ovviamente la start-up nello sviluppo.